L'itinerario stabilito dagli altri anni, al primo posto avanti l'azione cattolica, l'apostolato della preghiera, le confraternite, poi i santi, i fedeli, le autorità, i fedeli. Però prima di avviare la posizione devo dire due cose. Voi avete notato che sul manifesto non ci sono i fuochi pirotecnici. Viviamo in un momento particolarmente difficile, però la provvedenza è venuta incontro. La ditta pirotecnica del suo di Piero Coluccia e figli offre domani sera lo sparo di un fuoco in onore dei santi, apostoli, Pietro e Paolo. E questa sera, al ritorno della processione, da dietro la facciata della chiesa, spereranno anche alcuni fuochi che possono essere sparati qui in città. Poi ancora, la città di Taviano, il concerto bandistico di Taviano, si offre ed offre la sua professionalità per la processione gratuitamente. E quindi io ringrazio a nome del comitato sia la pirotecnica del sud di Piero Coluccia sia la direzione della banda di Taviano. Poi ancora, la città di Taviano, si offre la città di Taviano, si offre la città di Taviano, si offre la città di Taviano. Poi ancora, la città di Taviano, si offre la città di Taviano. Poi ancora, la città di Taviano. Poi ancora, la città di Taviano, si offre la città di Taviano. Poi ancora, 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 la città di Taviano. La città di Taviano. La città di Taviano. Poi ancora, la città di Taviano. Poi ancora, la città di Taviano. La città di Taviano. La città di Taviano. Poi ancora, la città di Taviano. La città di Taviano. Poi ancora, la città di Taviano. La città di Taviano. Grazie. Grazie.